E carissimi amici, carissime amiche, salve a tutti e buona domenica. Oggi volevo fare un aggiornamento sul caso di Alice Neri, che ogni giorno offre degli spunti di riflessione, anche delle piccole novità. Emergono particolari sempre nuovi, che mettono alla luce questi equilibri di coppia di provincia, che non sempre sono spiegabili. A volte quando succedono questi episodi così gravi, ci si chiede se nelle nostre vite effettivamente va sempre tutto così normale, o ci sono delle zone d'ombra. E sembra che delle zone d'ombra ci siano state nella vita di questa giovane donna, che lavorava in questa azienda, la UAM, come già abbiamo detto. La zona d'ombra, una delle principali, nasce quel giovedì 17 di novembre, già all'uscita del turno di lavoro, alle 16.29 per l'esattezza, e normalmente lei andava verso casa, dove giungeva anche prima delle 17, insomma 20-25 minuti di percorso in macchina. Ora cosa succede? Che invece passa tanto tempo. Il marito gli fa un messaggio, le dice a rivo, a rivo, e a riverà alle 18.30. Quindi senza dare spiegazioni, ecco. Il problema è un ritardo così notevole senza dare spiegazioni, e sembra senza che il marito poi gli abbia più chiesto. E ancora il paradosso vuole che dopo circa una mezz'oretta, quindi nemmeno il tempo di cambiarsi, forse una sciacquata veloce, ma con i panni vestiti, diciamo, da lavoro, esce di nuovo dicendo sempre al marito che deve andare a fare l'aperitivo, ma non con il collega, ma con una sua amica. Ora, questo fatto veramente fa pensare non solo questa uscita quasi precipitosa, ma fa pensare anche il fatto che lei ci abbia impiegato circa due ore per tornare a casa all'uscita della ditta. Quindi il problema sta tutto là, perché poi lei telefona anche all'amica dicendo se mi chiamasse, ti chiamassi mio marito, e tu dici che io sono venuto da te, però la perplessità e un'altra stranezza è quella di pensare nel momento in cui mettiamo che il marito avesse chiamato, cosa avrebbe detto questa questa amica? È venuta? O sei andata? Non te la posso passare al telefono? Sarebbe stato comunque poco credibile tutta la situazione, ma ciò non è nemmeno avvenuto. ora poi ci sta diciamo questa lunga permanenza a questo Smaster Caffè di Concordia non si sa cosa si sono dette con Marco il collega fatto sta che verso le 2.30 finisce questo lungo colloquio il collega parte lei parte intorno sempre alle 2.40 dal piazzale quindi 10 minuti dopo il collega un'altra stranezza arriva in questo momento in questa circostanza perché alle 2.51 leggo che la sua autovettura è vista transitare nei pressi di un caseificio che aveva la telecamera che è abbastanza anche vicino al luogo dove è stata poi ritrovata la macchina incendiata e la telecamera riesce a cogliere la sagoma diciamo così di una sola persona che guida la macchina però non si riesce a capire se fosse Alice o il suo assassino che guidasse ma il paradosso qual è è che mentre alle 2.51 viene vista lì poi sembra che l'ultima geolocalizzazione delle 3.40 quindi stiamo parlando di circa 50 minuti dopo avviene di nuovo nei pressi dello Smaster caffè di Concordia come se lei fosse tornata indietro o qualcuno fosse tornato in quella zona quindi perché tutto questo come è possibile tutto ciò a meno che diciamo la tua vettura non fosse già nelle mani dell'assassino che non so tornava tornava verso quella zona nei pressi del bar e perché poi è inspiegabile anche un altro fatto strano quando il marito dice di aver telefonato per essere 6.15 6.30 una decina di volte e che il cellulare della moglie risultava ancora acceso con le telefonate che di volta in volta venivano respinte è strano anche quello perché qualora fosse stato in mano all'assassino della povera Alice non si capisce perché non se ne sia disfatto subito o non l'abbia spento quantomeno subito che aspetta la mattina per poi stare lì a rifiutare le chiamate quindi è sembra anche poco probabile che sia stata Alice che abbia disattivato il geolocalizzatore perché a detta del fratello Matteo leggo Alice era un po' negata per queste applicazioni non le sapeva usare ma le stranezze non finiscono qua le novità perché c'è il cosiddetto giallo delle maniglie sapete che in tv avevano fatto vedere che cosa un po' un po' strana degli inviati avevano notato un paio di maniglie dell'auto bruciata lì per terra e sembrava pure che le forze dell'ordine non ritenessero opportuno andare a prenderle fatto sta alla fine che queste maniglie sono scomparse ora è strano pure il fatto che la zona non sia stata interdetta in qualche modo che sia stata lasciata aperta così ora io mi voglio augurare credo mi voglio augurare che nottetempo siano stati proprio gli inquirenti ad andare a recuperare queste due maniglie dell'automobile altrimenti non si sa veramente cosa pensare poi un'altra cosa un'altra novità è che si rafforza anche l'ipotesi di questo impropriamente detto stalker una sorta di molestatore all'interno dell'azienda che aveva infastidito più volte Alice non si riesce a capire se questo è un quarto uomo come ho detto io o è il terzo uomo cioè se è la stessa persona di quell'uomo che si dice aveva un particolare rapporto con Alice o se si tratta di un'altra persona che invece l'ha infastidiva soltanto quello che sappiamo in questi giorni è che il cosiddetto collega dell'aperitivo Marco ha abbandonato proprio la zona e certamente sconvolto credo che sia sconvolto dalla vicenda si è rifugiato in Sardegna presso la famiglia però certamente qualcosa deve rendere conto questa questa persona perché dire che i due giovani siano rimasti dalle 19.30 19.45 alle due e mezza di notte a parlare e scherzare fino alla chiusura praticamente tranquillamente è poco credibile è poco credibile perché 6-7 ore in 6-7 ore praticamente si fanno dei trattati di pace voglio dire si fanno delle cose infinite quindi credo che sia poco probabile che si sia trattato di una serata così normale e sembra anche un po' strano che si ridesse e scherzasse come se nulla fosse perché io mettendo sai nei panni anche della stessa Alice comunque era uscita di casa già con una scusa di andare dall'amica ma ridere e scherzare fino alle due e mezza poi addirittura trattenersi in auto eccetera ma è come si ha la sensazione come se lei non avesse alcun tipo di premura né di preoccupazione che il marito la potesse cercare che il marito potesse stare in una legittima apprezzione o preoccupazione allora mi chiedo se agiva in questo modo potassi che i patti erano quelli cioè di questo matrimonio comunque in crisi perché ripetiamo l'alice stava era stato stava in terapia per cercare di recuperare un matrimonio in crisi ora o avevano raggiunto un equilibrio in questo senso qua per amore della bambina non lo so ma certamente stare quasi tutta la notte fuori come dire a scherzare con la figlia e il marito a casa senza avere alcun tipo di preoccupazione chiamiamolo così sembra strano anche quello quindi poi altra novità ancora di questo caso è che emerge un altro piccolo dettaglio non insignificante quando alle due e mezza si alzano dal tavolino vanno verso le macchine che stanno nel parcheggio diciamo in semi oscurità prima di mettersi nelle rispettive macchine rimangono 15 minuti nel parcheggio del bar ma non è bastato forse non era bastato ancora il chiarimento non era bastato ancora quasi 7 ore di chiacchiere per dire delle ultime cose altri 15 minuti dopodiché lui sale nella sua macchina se ne va arrivare al semaforo svolta a destra dopo 10 minuti lei mette in moto e svolta a sinistra non si sa se poi lei veramente o se in quel frangente sia stata assalita da qualcuno se abbia fatto qualche telefonata se abbia visualizzato i social non si capisce ma non si capisce anche perché poi dopo pochi minuti la macchina viene vista passare vicino a questo castrificio in zona fossa di concordia e dopo 45-50 minuti il localizzatore prima di essere staccato ritorna di nuovo nella zona del bar ma veramente questa sta diventando veramente un giallo senza fine poi singolare è pure la dichiarazione di questa amica di Alice dove lei diciamo aveva detto che doveva andare che che dichiara Alice mi aveva chiesto questa cosa mi aveva fatto questa comunicazione perché non voleva incerosi del marito allora io ripeto il concetto non mi sembra una idea così così intelligente se la vogliamo dire tutta perché nel momento in cui io dico che vado da un'amica e si fa mezzanotte l'una le due eccetera e può come dire anche per una preoccupazione si può telefonare per dire come mai che cosa è successo cosa le dici tua amica in quel momento al marito dove sta dove è andata a meno che non avesse detto al marito io so fu di casa a meno che non fosse ripeto una sorta di abitudine consolidata quindi poi dopo questo fatto del geolocalizzatore tolto si perdono assolutamente le tracce anche dell'autovettura Alice forse alle 3.40 credo forse sia già morta perché anche il fratello dice che lei non era avvezza a queste applicazioni posso credere che in qualche modo l'autovettura era nelle mani dell'assassino che forse stava nella zona del base perché bisogna indagare se vive abita nelle vicinanze certo è che si apre poi un buco un buco di 12 ore perché dalle 4 di quella notte fino al pomeriggio inoltrato del giorno dopo venerdì 18 novembre non si sa più niente il marito d'altro canto dice di essersi addormentato la mattina fa le telefonate vengono respinte eccetera eccetera telefono in azienda non si è vista la Alice chiama il fratello vanno a fare le ricerche vanno a fare la denuncia e passano le ore alcuni testimoni dicono che laddove poi è stata trovata la macchina non ci fosse nulla ma su questo non ci possiamo mettere la mano sul fuoco perché sono zone come dire di campagna dove c'è anche molta vegetazione ecco medio alta c'è spuglia eccetera quindi può essere pure che semi nascosta alla visibilità sia sfuggita perché un conto è una macchina che brucia che si vede ovviamente anche da lontano e un conto è una macchina che sta semi nascosta quindi ma il fatto fatto sta che in tutti i casi questo assassino che non si sa se è riconducibile al luogo del lavoro o qualcuno che certamente è della zona e certamente non un predatore occasionale uno squilibrato un drogato qualcuno un rapinatore certamente no perché lo squilibrato il rapinatore quello là di passaggio mette in atto come dire la condotta criminale che magari può arrivare anche all'uccisione della persona ma scappa via va via invece sta in libertà un criminale lucido un criminale pericolosissimo perché la lucidità sta nel avere in qualche modo soppresso la ragazza non sappiamo ancora per quale motivazione se è una motivazione di ordine passionale una motivazione per altri tipi di interesse certamente deve essere qualcosa di sedimentato qualcosa di forte e di sentito perché altrimenti non si arriva ad uccidere una persona poi cosa succede che magari comincia a fare giorno il delitto non credo sia stato organizzato e allora necessita ecco che magari la lato vettura con la povera Alice dentro venga in qualche modo semi nascosta da qualche parte e nasce l'idea di bruciare tutto di bruciare tutto però bisogna aspettare quanto meno il calare delle tenebre e quindi si aspetta tutta la giornata di venerdì perché poi verso le ore 18 si comincia a vedere le fiamme quindi alle ore 18 è cominciato a fare buio quindi c'è un assassino o gli assassini insomma cospargono la macchina di benzina i materiali infiammabili comunque danno fuoco e poi viene ritrovato ora qualcuno dice che queste modalità sono anche tipiche della malavita ed è vero quindi può essere però mancano questi risconti cioè manca qualsiasi indizio che possa collegare la ragazza che era una ragazza comunque solare giocosa anche semplice nel suo modo di vivere potesse essere collegata a giri un po' particolari quindi cosa può essere successo può essere successo che ci sia stata certamente una sorta di colluttazione quindi nel momento in cui Alice aveva addosso sulla pelle sui vestiti sulle mani segni del suo assassino o dei suoi assassini per cui era necessario far sparire qualsiasi traccia perché altrimenti con le tecniche di oggi sapete benissimo che si risale il DNA eccetera e quindi è stato pensato secondo me proprio di dar fugo per far sparire un po' tutte le tracce e in pratica c'è riuscito ci sono riusciti sicuramente perché a stento si riuscirà ad estrarre il DNA da quelle poche ossa che sono rimaste quindi per il momento nel registro degli indagati resta il marito Nicolás e diciamo l'amico Matteo che vi ripeto si è un po' rifugiato insomma presso la famiglia in Sardegna attenzionati sono alcuni dipendenti della UAM anche se io personalmente o si scopre che queste storie all'interno dell'azienda siano un po' più forti cioè delle passionalità più sviluppate più sedimentate allora può avere ragione una sorta di collera di risentimento di gelosie di qualcuno che ha seguito che ha visto che ha perso la testa ma se fosse soltanto la molessia del balordo oppure una sorta di costeggiamento alla buona come ahimè succede in tanti ambienti di lavoro non credo che ci sia la sedimentazione tale da giustificare l'omicidio il dare fuoco alla macchina eccetera quindi queste sono le riflessioni di oggi con qualche piccolo elemento di novità e saremo così in guardia per vedere se emergeranno altri fatti nuovi io vi ringrazio sempre della della vostra attenzione e anche su questo caso ho visto che vi state seguendo molto quindi io veramente vi ringrazio del vostro affetto ciao alla prossima